Attiva l'apporamento a roba e suoneria settimanale e con il filmico trova il tuo regalo. Mi chiamo Virgola, sono un gattino, sono una stella del telefonino. Chi sa fare un metri, chi sa chi è? Se non rispondi questo non lo saprai mai. Manda Virgola al 48248 e puoi chiedere subito. Regalo questa te verissima suoneria. Manda Virgola al 48248.